Assessore, un festival di taglio sempre più regionale, una squadra importante con dei primi risultati rilevanti anche loro. Sì, importante perché innanzitutto a partire dal comune per finire in Parlamento con il sottosegretario e con il governo vengono coinvolti tutti i livelli istituzionali per realizzare, grazie a Confessor Centi, un festival che è un punto di riferimento importante lungo il periodo estivo per la costa marchisana relativamente a tutti gli appuntamenti enogastronomici che ci sono, questo è uno forse dei più importanti. Dobbiamo farlo crescere, da quest'anno diventa festival regionale perché interesserà altre realtà in giro per la regione e credo che sia un momento importante per valorizzare sia il prodotto pesca di cui c'è il grande bisogno e per valorizzare e anche abbinarlo insieme ad altri prodotti enogastronomici al discorso del turismo, cosa importante per far crescere le marche. Stiamo puntando sulla crescita del turismo marchigiano e questo credo che sia uno dei veicoli per farlo crescere.